È importante perché questi ragazzi hanno vissuto il periodo del Covid, ora il periodo post-Covid sta a noi adulti intervenire anche nel direzionare quelle che siano ovviamente le libertà che stiamo notando degli sfoghi eccessivi, degli atti di violenza, pertanto dobbiamo far sì che questi ragazzi inizino a relazionarsi anche nell'ambito dello spettacolo, delle attività ed è molto importante, da considerare che poi vi è oltre il Covid l'isolamento che ha comportato non dimentichiamo anche la fase del terremoto che comunque ricordano questi ragazzi dobbiamo aiutarli e supportarli in quelle che siano la socialità, la nuova socialità e anche un uso corretto di quello che sia la tecnologia. Bianconiglio è il festival che girerà nei territori di Abuzzo e Molise, nelle città di Teramo, Lanciano, Orsogna, Vasto, Termoli e Castel di Sangro. Il festival è un festival di teatro ragazzi, quindi porterà delle compagnie di compagnie di teatro ragazzi nazionali e locali in questi territori e cercherà di ricostruire il tessuto della socialità, soprattutto dei ragazzi e degli adolescenti che in questi anni è stato molto confinato dal Covid. Questo è l'intento del circuito ACS, rimettere i ragazzi in socialità tra di loro e far crescere la loro capacità creativa e di immaginazione attraverso i linguaggi del teatro.